La partecipazione al tavolo di crisi per l'ospedale di Sapri da parte della coordinatrice del Tribunale del Malato, Marisa Coppola, è avvenuta a titolo personale senza prima consultare il direttivo di riferimento. In questo modo il coordinatore di cittadinanza attiva Sapri-Golfo di Policastro, Vincenzo Lovisi, prende le distanze dal Tribunale del Malato, precisando che rispetta la scelta ma non è concorde alle modalità di lotta basate sul continuo allarmismo ed una eccessiva superficialità nel trattare temi delicati e complessi come quello della sanità. Lovisi tiene poi a precisare che cittadinanza attiva sta lavorando ed è in continua collaborazione con la Regione Campania e le relative direzioni sanitarie perché solo attraverso un lavoro sinergico di tutte le parti in causa si potrà arrivare alla risoluzione dei problemi dell'intera sanità campana. Per quanto riguarda l'ospedale di Sapri conclude, un ringraziamento va al direttore sanitario Rocco Calabrese per il suo costante impegno e vicinanza. In questo modo Lovisi ammonisce la coordinatrice del Tribunale del Malato, Marisa Coppola, che ha raccolto la solidarietà del Comitato di lotta per il presidio ospedaliero. È un attentato, spiega il Comitato, alla norma più elementare di espressione rappresentativa della difesa al diritto alla salute, alla nostra vertenza territoriale e alla proposta di un tavolo di crisi per un ospedale non più in sicurezza. Esprimiamo il nostro sostegno e solidarietà all'amica Marisa. Il Comitato di lotta continua, sarà ancora di più in allerta contro il malaffare e contro tutti coloro che attentano alla libertà di pensiero e di denuncia. Non ci intimidiscono le scomuniche di cittadinanza attiva, che ha ormai da tempo tradito i valori di partecipazione e di autonomia che conserva soltanto nel nome. Di fatto, conclude il comunicato stampa del Comitato di lotta, è un organismo senza autonomia di azioni al servizio del potere politico da cui riceve anche finanziamenti.